Bella ragazzi, qui è Hachez Sono qui per ringraziarvi per i 200 iscritti del canale Lo so, non me lo frega un cazzo, però Vabbè, sono sempre 200 iscritti E niente, volevo farvi vedere veloce dove gioco Dunque, non so, boh, qui c'è il PC C'è un Asus da 4GB di RAM, 1000GB di disco origino Car Hachez Xbox Con un controller L'iPod rotto Un altro controller I giochi, oggi ho dato via un po' di giochi L'altro controller PVR La televisione È da 40 pollici C'è una televisione abbastanza grande C'è un casino di DVD Tutti gli altri sono in cantina Le piccole casse La Logitech Niente, un'altra scrivania Che è due studi, un casino della Madonna C'è Boh Poi l'armadio Letto C'è un casino di poster Due Tre Quattro Cinque Sei Quello giù là in fondo È una bestia da una Madonna Questo qua Il migliore E niente ragazzi Volevo ringraziarvi E basta Bella C'è un casino di poster C'è un casino di poster